il che sta dalla stessa se poi vediamo che non combiniamo niente andiamo solo apprende il bon La facciamo finita Se no Stai dal sinistra verso niente Perché poi Io e Drey che ci siamo messi qua Vediamo quante Dile che darò nella città di Norte Se poi vediamo che non passa nessuno Noi non combiniamo niente Andiamo a prendere Bonner La facciamo finita Carro, 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 carro che è passato avanti a Norte Dove? A Norte cercavi Carro a Norte Io non vedo Adesso, carro a Norte Io non vedo, vai più indietro Coro Vai più indietro Fammi vedere Vai più avanti Ok Fermati Dove sono sti Leva Misti Al Aspetta Te li vedi Osprey? No, li ho persi Ehm Non mi Guarda A 8 C'è della Nebbiato si sono passati Ovest Frecar armali sono Davanti a noi Davanti a noi Stanno Davanti a noi Beh, dove? Davanti a noi? Muso? Sì Sì Direzione Ovest Eh, 260 Sì 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 Sono tre car armati davanti a noi Ma I Eccola Vido Oh Sì Sì Ritorniamo nella foresta? Sì 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 Quell'altro dov'è? Uno è entrato dentro la foresta l'ultima volta l'ho visto direzione 270 quindi direttamente a Sì ma io 270 non ce l'ho capito Si è entrato nella foresta l'ho visto Eh... Cosa? Eh... 280 Ultamelo Te lo sto buttando io Ah eccolo 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 Cycplatoon, questo è Hamar 2 Il nostro servizio veicolo è distrutto Over Eh... Cycplatoon Eh... Eh... mettiamoci Cycplatoon, abbiamo un T-55 Avete trovato qualcosa? Harkholt Marked Mettiti in qualche posto Un po' più... insomma dove io possa vedere Eh... Tank is moving Sì dove io possa vedere Si dove io possa vedere Eeeh... Perono Che insomma non così sposto E te l'ho detto che non sta avanti qua E te l'ho detto che non sta avanti qua Si si Poi cerca di... Se lo vedo... Io ora vedo solo foglie Per la pronaca Vedo delle gran foglie Se io vedo qualcosa ti dico approssimativamente La direzione all'inizio Eh... guarda... Dopo lo punto perché se io guardo da dentro Non vedo assolutamente niente da fuori Quindi quando entro devo girare Sì Ho capito... è un po' un problema coordinarsi Si e poi si muove pure insieme Si muove tutto insieme Aspetta... guarda cos'è quello È un ca... fermati Torna... torna leggermente a sin... a destra Cos'è un camion Torna leggermente a destra... a sinistra A destra... fermati Lo... lo... lo butto giù perché è dei loro Sì sì... Ecco... non è una foglia... è proprio quel pezzo di carro armato che sbuca fuori Non è il carro armato... è un... Chi vuole il verso il mio ruolo Sì Sì Sì, 3rd platoon C'è un Fante è in giro... ci ha visto forse Quindi conviene cambiare un pochino zona Do you have contact? Ok dove andiamo? Asprey puoi aggiornarmi sulla vostra situazione E riguardo ai carri In un Fante... do you have contact? Ne abbiamo distrutti due Adesso stavamo attaccando un altro messo nei minuti No 3... 3 e un camion forse di riparazione Non so cos'era Il carri è un camion di riparazione Solo che c'era un Fante forse ci ha visto Dove? Eh... direzione 2-0 A nord... verso nord e sta entrando nella città Eh... drake... carro sta entrando nella città Dove? A nord Però non l'ho ancora visto Nemesi mi ricevi... Sì sì ti ricevo c'è un carro che sta entrando nella città a nord Direzione 10 Sì ma io 10 ho gli alberi Vabbè più o meno si vede un po' più a destra e nel nord Eccolo... eccolo aveva visto la sua coda Dove? A sinistra stavamo Ve lo punti? E se muove è difficile Adesso l'ho perso Visto la coda per un secondo Ma dove era? Era... andava verso sinistra Sulla prima strada che c'è della città che si vede Dietro le case? No no... proprio davanti A me non mi sembra Io non lo vedo Non lo vedo più neanche io Nemesi adesso Voi lo vedete Drake? Ah eccolo forse C'è una moto laggiù in fondo C'è una moto laggiù in fondo C'è una moto Noi A vera con la ti Non è un carro, è un BMP Prego Ok bravi Era un BMP comunque eh